Riduzione dei costi di direzione e risoluzione del contenzioso in materia di lavoro festivo infrasettimanale. Queste le principali e più urgenti motivazioni alla base dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti comunali. Un contenzioso che va avanti ormai da anni e che adesso fa riapparire nuovamente lo spettro degli scioperi. Un confronto urgente con il sindaco e la richiesta unanime di tutte le delegazioni sindacali espresse in una conferenza stampa unitaria. Siamo qui che si aspetta e non ci danno risposte, c'è stata una risposta vaga da parte dell'assessore che abbiamo accettato ma che bisogna in tutti i modi portare avanti le vertenze, più ricostruire veramente il tavolo della contrattazione. Un'organizzazione più snella è solo favorevole a un ente, non è sfavorevole. Noi si sta lavorando da anni con una organizzazione complessa perché noi abbiamo dirigenti e posizioni organizzative e quindi sia per il dipendente sia per il cittadino è sempre un problema sapere realmente il servizio, dove andare a rivolgersi, come rivolgersi e chi ti dà la risposta nell'immediato. Quindi tutte le organizzazioni più semplificate sono e più ne trarre vantaggio il cittadino sicuramente, non solo il dipendente. Lo stato di regitazione è già in atto, i prossimi passi dipendono dai propositi di questa amministrazione che nella persona del sindaco in campagna elettorale aveva preso degli impegni precisi riguardo alla contrattazione decentrata per esempio, ma ancora non è stato fatto nessun passo in avanti. Gli impegni presi secondo noi vanno mantenuti e quindi ci proponiamo che questa contrattazione abbia finalmente inizio. Le richieste sono quelle di avere una polizia municipale efficiente e pronta al servizio del cittadino perché questo possa essere fatto, c'è bisogno di mezzi, di strutture.